La BBSPA di Marostica procederà con la chiusura dello stabile causando la perdita di 100 posti di lavoro e il successivo impoverimento di un intero territorio e del tessuto sociale. Ne abbiamo parlato con i sindacati. Un imprenditore locale con una manifestazione di interesse giudicata dalla stessa ABB Credibile aveva manifestato l'interesse di prendere l'azienda ma soprattutto di prendere tutti i lavoratori, quindi di mantenere l'occupazione, la piena occupazione. Ieri all'incontro con la regione, inaspettatamente, ABB ha rigettato la richiesta dell'imprenditore. Qual è il destino dei lavoratori adesso? Diciamo che una piccola speranza in questi mesi l'abbiamo avuta e i lavoratori con noi abbiamo utilizzato sette mesi per poter cercare di fare un percorso di accompagnamento di questi lavoratori anche con un altro imprenditore, però la volontà di ABB non è questa e noi siamo molto, molto, molto amareggiati. L'imprenditore che aveva manifestato questa opportunità lì avrebbe reintegrato tutti quanti, parte con quello che già stanno facendo e parte magari con altre produzioni, però questo era l'intento e questo era il nostro compito fino in fondo. Abbiamo incalzato più volte questa azienda e che le motivazioni vere non ci sono ancora state dette e non ci vogliono essere dette da questa azienda, però il progetto, il progetto tiene e può scaturire anche nell'ambito di questo territorio anche nuove assunzioni, nuove produzioni. Grazie a tutti.